buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi vi porto con me in un uscita in mountain bike e niente ci rivediamo tra poco appena becco i miei compagni di uscite ai mignonne problemi problemi attenzione colpo di scena colpo di scena clamoroso attenzione colpo di scena clamoroso problemi a few moments later cattiveria è un altro buco è grandino l'hai preso proprio di tagliare un po' di mastice sarebbe da tagliare ma non è neanche troppo tecnico adesso pezzo è tranquillo dopo un po' di più ma niente di che adesso c'è un pezzo bello lunghietto tecnico sinistra ora una rampetta un po' troppo alta però è un po' di più ma Grazie a tutti. Occhio ai rami! Allora il pezzo è in su uno ma l'aspettavo, sto strappetto. Sentiamo il pezzo nuovo. Allora il pezzo è in più. un attimo buon dito stavo per andar dritto bello si si volevo arrivare qua ma non merita va meglio non saltare però è stato forte stiamo affrontando un pezzo di salita bello duro prima di prendere un senterino in discesa e sono tra lo blocco da quello che mi hanno detto giusto il guantino guantino tattico per scendere guantino chirurgico andiamo bello qua ok 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 sì ho presente buona buona è buona guarda se va dove siamo andati oggi con questa bici può andare ovunque, può far di H anche Sto utilizzando sempre la piana Don't Ride Race 900 frontino eh si perchè GTS non te lo becca Don't ride this home, se volete fare i home non tagliate E' facile, facile, facile E' malona Bello qua ma un po' treffino Bello qua Arrivato finalmente a fine giro e più di quattro ore, quattro ore e cinque minuti all'incirca fatte Non pensavo di fare un giro così lungo ma è andata così Non penso di essere riuscito a filmare tutte le parti più belle purtroppo Infatti mi sono giocato un jolly a un certo punto subito dopo aver spento la telecamera Peccato, peccato che non ve l'ho inquadrato, fortuna mi sono salvato E niente Spero che questo nuovo contenuto vi sia piaciuto Se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina Per rimanere ragionati su tutti i prossimi video E se lo fate siete grandi E io vi saluto e ci vediamo Alla prossima